Buongiorno a tutti da Principio Nerazzurro, siamo alla Varia dei Tempri, oggi seconda giornata Nerazzurra, stagione 2018-2019, abbiamo un grande ospite, il grande Nicola Berti con noi, purtroppo siamo qui, sempre, sempre, siamo nella Via Sacchia, ora ci stiamo a proprio in quanto verso il Tempio di Giunone, gli sto facendo fare un giro turistico nella nostra Acra Gas, Acra Gas, questo è il nome greco, occhio che cadi giù Artur, Artur vieni qua, segui Nicola, non è stabile, non è molto liscio poi, Artur, eccolo qua, saluta, ciao, ciao, e siamo qui che adesso ci stiamo dirigendo verso un aperitivo veloce, ciao ragazzi, in salita, in salita, preparazione è autunnale questa, e siamo qua, ora ci dirigeremo verso la scala dei Turchi, che ancora di cosa non ha visto, perché è venuto qui vent'anni fa a vedere la Varia dei Tempri, no, crede non l'aveva vista, però la Varia ha vista, è la vista cambiata in meglio adesso, quindi un progresso c'è stato, l'ha detto lui, ci sentiamo dopo, ci aggiorniamo, giornata fantastica comunque, il Tempio è lì, guardate,